ciao a tutti dal salutatore grandissima sorpresa direttamente dal colosseo eccomi qui con un grande direttamente dalla sardegna da uri abbiamo luca cocco di ardauli ciao luca ecco qua allora siamo qui direttamente a roma un messaggio che vuoi mandare a tutti coloro a tutti i tuoi fan che ti seguono saluto a tutti tutti gli appassionati di musica e tutti gli appassionati degli strumenti come organetto ecco qui abbiamo qui un organetto ci fa sentire qualcosa al volo ok bravissimo grande luca grazie grazie veramente perché veramente un talento e ne parlare e mi sentite parlare presto e allora vogliamo fare un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono saluto a tutti ecco qui ciao abbraccio un abbraccio un saluto è un saluto velocissimo con un suono ecco qua ciao ciao grazie dal salutatore e luca cocco seguitelo sulle pagine facebook luca cocco e luca cocco 2 la mia pagina musicale luca cocco e su instagram e su instagram perfetto io ti regalo e te la meriti la manina del salutatore ciao un saluto speciale ad ardauri saluto a tutti a tutti le ardaulesi grazie a tutta la sardegna e a tutti i guanti ciao ciao luca cocco ciao